Presidente Sebastiali, ci saranno due squadre nel campionato professionistico unite dal colore il biancazzurri? Sicuramente una cosa bellissima perché loro hanno fatto qualcosa di straordinario considerando da dove sono partiti e considerando che come ho sempre detto questa è una società che merita assolutamente di essere tra i professionisti quindi sicuramente un'altra squadra tra i professionisti molto bene poi se sono biancazzurri è ancora meglio Ci auguriamo però che non ci sarà il derby l'anno prossimo ma quello che succederà succederà l'importante è comunque che tutte e due le squadre hanno fatto fin qui loro molto meglio perché hanno vinto noi adesso il 18 ci appresteremo a iniziare questo particolare campionato ulteriore che sono i play-off sperando di arrivare fino in fondo Poi il Pineto si contraddistingue per l'amicizia l'amicizia che lega lei e il presidente dottor Sibio Broca Assolutamente infatti sono emozionato e veramente contento per lui perché c'è lo merita